Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo ad un nuovo episodio di The Sims 4 Vita in Città. Allora ragazzi, come vi avevo detto l'altra volta abbiamo aggiunto due nuove famiglie, che sono la famiglia di Darian Gray e la famiglia aggiunta da Maxis con lo staff pack del bullying. Io oggi invece ho aggiunto praticamente la famiglia La Parte Proibita di Me, che è una coppia lesbo, fatta da Kate Cree, sì spero di non essermi sbagliato, e appunto lei mi ha pubblicato questa famiglia tramite l'hashtag Rouge Daniele Danzu, quindi come avete fatto anche altri di voi con le altre famiglie che ho aggiunto, e l'ho voluto aggiungere principalmente anche se c'era già una coppia lesbo in città, però lei mi ha detto che ha solo la demo di Creonsim, quindi mi sembrava giusto avere una sua creazione magari nel mio gioco. Ma possiamo continuare quindi la vita con Camille Rouge e Pranav Gupta e il nostro Simone. Tra l'altro ragazzi volevo farvi una domanda, perché con il nuovo aggiornamento hanno aggiunto la possibilità di far andare a vivere da soli gli adolescenti, quindi avevo intenzione, forse c'era anche l'idea, di far andare a vivere da soli Simone, Michelle Pizzaz e Cristina Howard, tutti e tre insieme per iniziare un trittico, una vita diciamo appunto nuova. Allora, siamo a lunedì e sono le 5.50 e vediamo un attimo, allora la nostra Cristina deve andare a lavoro tra tre ore, tra l'altro ha fame, quindi sta... cosa doveva fare? Nebulizza il nostro sotto il letto, ci sta, vai a nebulizzarlo. Ci abbiamo il nostro Pranav Gupta qui in bagno, stava facendo pipì o non lo stava facendo, anche lui deve andare a lavoro, come potete vedere fra tre ore. Cosa sta succedendo? Lo nebulizza? Sì, lo nebulizza. E il nostro Simone dovrebbe... sta morendo di sonno, perché c'era il nostro sotto il letto, quindi non riusciva a dormire. E ora neanche non ce la fa. Lei dovrebbe mangiare, allora innanzitutto vai a mangiare, lui sta andando a mangiare. Qui cosa succede? Non può dormire ragazzi, fai un pisolino almeno qui, così non muori. Lui dovrà andare a scuola, presto. Ci sono un po' di bug ragazzi, ve lo dico molto apertamente, e quindi speriamo che li risolvano quanto prima. Solitamente quando aggiungono uno staff pack questa cosa succede, cioè si creano dei bug o comunque dei contrasti. Allora, no, vai a lavoro decisamente, mentre lei vai a lavoro perché dobbiamo sperare di ottenere una promozione. Sì, ma voglio dire, ce la possiamo fare? Lui sta morendo tipo di sonno ragazzi, poveretto, non riesce a dormire. Ma anche se ti faccio andare a dormire adesso, no sense. Fai così, riponi, va. E poi vai a scuola. Perché lei è imbarazzata? Impossibile non vedere violazione della privacy, why? Vedete, per esempio, non c'è più sostituisci, non so perché l'abbiano eliminato. Comunque, lei è ora che vada al lavoro. Speriamo che dopo il lavoro si riprendano un po' tutti i ragazzi, da questo bug soprattutto. Con lui possiamo fare studia la legislazione. Lei sta andando a lavoro con la sua fantastica divisa. Con lei dobbiamo fare il lavoro a suodo, sperando che riusciamo a ottenere una promozione. Con lui, se va a scuola, magari ci fa un piacere e non salta magari la giornata di scuola. Ok, possiamo mettere stringi amicizie. E direi che possiamo mettere la velocità al massimo, così va avanti e li ritroviamo subito dopo, praticamente. Come vi dicevo, uno dei bug che appunto c'è stato è questo qui, che non possiamo scrivere, non possiamo mettere il sostituisci. Paghiamo un affitto di 1200, ragazzi. Ma arriviamo alla scuola e andiamo da qualche parte. Adoro, adorissimo, anche se lui sta dormendo in piedi, mi ero dimenticato, però mariniamo la scuola. Ma sì, ma dai, ma ci sta alla grande questa marinata della scuola. Speriamo che non ci becchino, diciamo, gli agenti. Lui sta dormendo in piedi, ragazzi, non può neanche bere caffè, mi sa. Adoro, con Michelle Pizzatz. Che ancora, per fortuna, non è cresciuta. Simone è tornato a casa dalla scuola, non serve che liberi spazio, va bene. Marina è la scuola, adoro. Quindi possiamo, aneddoto divertente. Qui c'è un gram, con un piatto in mano. E possiamo ballare, quindi, insieme. Cosa sta succedendo? No, niente. Ok, o guardate chi c'è, il nostro vicino e amico, che possiamo, magari, invitare a ballare. Così, continuiamo a fare amicizie anche con lui. Aisha. È un adolescente, ragazzi. E anche Alice Dodaro, ovviamente. Lui si sta iniziando a conoscere un po' di ragazze adolescenti. Superadoro. Con Lenny, comunque, siamo già amici, in realtà. Lei è un po' a disagio, quindi non credo assolutamente che riceveremo la promozione oggi, eh. Dove sta andando lui? Ah, in bagno. Tra l'altro, ragazzi, sta dormendo in piedi. No, vabbè. Che tristezza. Dove stiamo? Ah, ci sono un po' di persone. Qui c'è Lenny, che balla da solo. Anzi, balla con Salvatore Dodaro. Qui abbiamo Roberta Bianchi, come al solito, la nostra Roberta Nazionale, che, se non erro, è collega del nostro Pranav. Sì, infatti, colleghi. Beh, direi che possiamo, quindi, eh, creare contatti. Quindi socializzare un po'. Via, che si va di danza, praticamente, di ballo, ragazzi. No, niente, Simone gioca. Però continuo a fare amicizia con Michelle Pizzatz. Io direi che possiamo chiedere consigli sulla battitura. Giocare di fantasia. Ha incontrato Victor Feng al lavoro, ma i Feng, molto probabilmente, ragazzi, diventate migliori amici per sempre. Direi che è il caso. Come le loro mamme, anche loro due diventano migliori amici per sempre. Qui c'è un Malcom Landgrab, che è diventato giovane adulto. Non ci interessa. Abbraccio ancora. Beh, con Michelle siamo diventati veramente amici. E questa è Christina Awarts, l'altra che vorrei portare insieme a noi. Tra l'altro torniamo a casa con Simone. Così non facciamo vedere i nostri genitori, che abbiamo marinato la scuola. Anche se alle 16 dovrebbe tornare il nostro... Oddio, lui stanchissimo, ragazzi. Sono tornati tutti, in realtà, a casa. Per fortuna guadagniamo abbastanza. Tipo con Camille guadagniamo 6.800, così che possiamo pagare l'affitto. Almeno, oddio, l'affitto di 1.200 Simoleon. Cioè, ragazzi, ciaoone. Però questo fatto dell'affitto vuol dire che comunque non aumenta in base ai... Come si dice? Non aumenterà in base ai mobili anche che noi abbiamo. Allora, con il nostro Simone direi di andare assolutamente a dormire. Michelle sta già dormendo. Vediamo a che punto è. Dobbiamo creare una rete di contatti. Magari domani verremo promossi. Quindi, lui, facciamo ripara. Abbiamo guadagnato un pochettino. Poi, magari, andiamo fuori sulla nostra cassetta della posta e paghiamo l'affitto. Dobbiamo assicurarci il voto di un nuovo, di una persona. Non so di chi è il voto che già abbiamo, in realtà. Non so di chi è. Dovrebbe essere del nostro amico Edward. Quindi io direi di chiamare Akiri Akibo. Invita nel lotto attuale. Il festival di Sastre e Disastri è in città. No, direi di chiamare Akiri Akibo. Butta via. Eccolo qui. Dibatti politici. Esprime ammirazione. Edward ci chiede di andare a Disastre e Disastri, ma non ci interessa. Magari sediamoci qui. Sedite e chiacchiera qui. Così ci assicuriamo magari un nuovo voto. Dov'è? Dove sono? Oh, voilà. Eccolo qui. Akiri Akibo che è diventato sempre più protagonista, in realtà, delle nostre... C'è sempre, praticamente. La carriera politica, assicurati il voto. Si è svegliata la nostra Camille, tra l'altro. Oddio, lei sta morendo. Tipo, fai usa qui? Questo è ancora buono da mangiare? Sì, oddio. In realtà no. Facciamo così. Fai un pasto veloce. Con lo yogurt. E poi ti vai a caricare nuovamente. Riuscirà ad assicurarsi il voto, ragazzi? Sì, ce l'abbiamo fatta. Adoro. Bene. Molto bene, ragazzi. Ci serviva proprio. Bene, lui si mangia la Macedonia. Ragazzi, adoro. Dovrebbe anche fare il livello in più di carisma. Ancora sono un po' costipato, in realtà. Lei mangia. Allora, magari poi lo facciamo andare qui. Così poi gli facciamo pulire questa parte e asciugare. Con questo bug che non riusciamo a fare sostituisci, il nostro Oprana sta facendo un po' di... Di, come si dice, di abilità nel... Ok. Di abilità nel fai-da-te, quindi nella manualità. Anzi, il fai-da-te non esiste più. E quindi possiamo anche aggiornare, iniziare ad aggiornare i nostri... Le nostre cose che abbiamo in casa, i nostri mobili. Super adoro. Allora, in realtà ha bisogno del livello 5, quindi dopo che pulisce a terra, lo facciamo parlare esercitati nei discorsi, così. Facciamo questo livello 5 e cerchiamo di avere una promozione anche nella carriera politica. Attenzione, ragazzi, che siamo a livello 5, tra l'altro. Attenzione, perché tra due giorni il nostro Prana diventerà anziano. Oddio, cioè, di già... Beh, perché lui è più grande, in effetti. Ah, non ha fatto nessun tipo di... Va bene. Grazie. Ora devo proprio andare, ci vediamo dopo, va bene. Il nostro Simone, tra un po' si sveglia. Che cosa sta succedendo? Non lo so. Ovviamente fanno casino i nostri vicini di casa. E quindi, bussa gentilmente. Una volta che stavano dormendo in pace a Cristo, chi è uscito? Chi esce? Ah, il nostro Lenny Anguilar. Presentazione amichevole, innanzitutto. E poi, magari, lamentati dei forti rumori. Sei nostro... No, non sei ancora nostro amico, sei amico di nostro figlio. Hai ragione, è stato un comportamento inaspettato. Proveremo a fare meno rumore. Grazie, caro. Fai fichi fichi con Pranav Gupta. Così, abbiamo bisogno sia del riposo che del divertimento, ragazzi. E quindi ci buttiamo a fare le cose zozze con il nostro marito. Che sta per diventare anziano, quindi dobbiamo sfruttare il tempo il prima possibile, diciamo. Ok, lui, tra l'altro, cosa deve fare? A parte i compiti, ottieni un primato nel gioco di battitura. E lui che entra dentro casa? Ansia. Imbarazzante, ragazzi. Esecuzione scadente. No, povera Stella. Non riesce neanche più a fare sesso. E se è anziano, ragazzi, non ce la fa. Loro che vogliono pulire padre e figlio, adoro. Tra l'altro vi ricordo che Simone è stato adottato, eh. In questa famiglia. Allora, caro, facciamo così. Gioco a una partita... Ok, a battitura. Diciamo che ce n'è bisogno. Così, magari, almeno, riusciamo... Anche se mancano quattro giorni a questo punto, o c... Quattro giorni, magari riusciamo a completare l'aspirazione del nostro Simone. Potremmo. Chi lo sa. Cos'è questo? Oddio, è malato, ragazzi. Ansia. Comunque Simone è troppo cagionevole. C'è sempre malato. Che balls. Allora, la nostra Camilla oggi va al lavoro, ragazzi. Deve mangiare e deve creare una rete di contatti. Quindi, innanzitutto, facciamo così. Fai un pasto veloce. Cereali. Così, intanto mangiamo. Simone, non so se riesce a completare... Ora devo proprio andare, ciaoone. Ok, è riuscito a completare. Va benissimo. Facciamo usa. E poi, anche lui, facciamo un pasto veloce con i cereali, anche lui. Così, la nostra Camilla, appena finisce di mangiare, le facciamo fare con i social network, creare una rete di contatti con i giornalisti. Così, così portiamo a termine anche questo... Ehm... Questa cosa. L'incarico, diciamo, del giorno. Lui sta mangiando, così è pronto per andare a scuola. Magari dopo che mangia, gli facciamo fare i compiti, perché abbiamo, come vedete, un rendimento scarsissimo. Ah, povera stella. Ha pensato a fare troppo altre cose. Connessioni ideali per continuare ad avanzare in questa carriera. Abbiamo ottenuto, tra l'altro, 125 follower e siamo anche concentrati, ragazzi. Ok, per il divertimento va più che bene. Lui sta facendo i compiti. Il nostro Pranav è il nostro Pranav. Allora, Pranav ha bisogno del livello 5 di carisma, ragazzi. Quindi lo facciamo svegliare e li facciamo fare... Cerchiamo di fare questo livello 5 di carisma, così magari... Ah, ha finito i compiti. Perfectly. Bravo. Allora fai zapping. Così magari riusciamo a essere promossi per entrambi al lavoro. Nelle due carriere che sono state, vi ricordo, aggiunte tramite la... La nuova espansione... La nuova, ormai già da due mesi, più o meno. L'espansione di The Sims 4 Vita in Città. Che io trovo... Ho trovato fantastica. Andrai al lavoro. E anche lei andrà al lavoro. Perché vi ricordo che se rimanete da casa... Se rimanete a lavorare a casa, si aumenta il rendimento. Ma non potrete avere promozioni. Mi sono accorto di questa cosa. Che ogni volta, sì, fa molto di più il rendimento, ma non si può avere... Cioè, non hanno mai una vera e propria promozione. Livello 5 di carisma. Adoro. Adoro. Assicurati i voti. L'abbiamo fatto. Bene. Allora fai usa. Così poi vanno tutti a lavoro. Lei è ancora concentrata, per fortuna. Quindi andrà al lavoro concentrata. Infatti ci sta andando. Lavora a sodo, ovviamente. Lui sta andando a scuola. Così. E io direi di studiare sodo. Perché il rendimento fa cagare. E il nostro Pranav sta andando al lavoro. E io direi che possiamo fare lavoro a sodo. E allora direi di aumentare la velocità al massimo. Così che vediamo se i nostri tre beniamini ormai, Camille, Pranav e Simone, vengono o meno promossi. Vabbè, Simone no. Però magari aumenta il rendimento, ragazzi. Perché... Ok, il rendimento ok. Per fortuna. Perché fa un po' schif. Lei non credo verrà promossa. Ovviamente. Ma è una gioia. Vorrevo fare un episodio dove veniva promossa. Ha arraffato qualcosa a scuola. Ma non ci interessa. Perché sono piatti sporchi, credo. E ha bisogno di dormire. Praticamente questo episodio è il bello addormentato. Cioè hanno bisogno tutti di dormire, ragazzi. Ma perché? Forse perché li faccio dormire in orari un po' strani. Ah, sì, sì. Vai. Figo, figo, figo. Oh, tutti, tutti, tutti promossi. E ora andiamo a leggere le due promozioni. Quali sono? Zacchete. Ho messo in pausa perché non so cos'è. Tempo rimasto. Non so cos'è. Promossa direttrice delle comunicazioni. Adoro. Camille è stata promossa direttrice delle comunicazioni. Guadagnerà 91 in più all'ora. Quindi adoro. Vedete i nostri soldi, quanto sono aumentati. Ha anche ricevuto il seguente bonus. Promuovi l'immagine e trasmetti lo stato. Adoro. 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 Mentre per quanto riguarda il nostro Pranapo. Promosso a pubblico ufficiale. Guadagni 26 in più all'ora. Per 91 in tutto all'ora. Lei ne guadagna 300 e qualcosa. Quindi diciamo che dipendono molto da loro. Nuovi abiti per creare un sim. E 1555. Super adoro. Ok ragazzi. E io oggi stavo pensando di farmi un giro. Potrei venire a casa tua. No. Non so cosa sia. Vuoi terminare in anticipo l'evento? Sì. Congratulazioni per l'importante promozione. Usciamo? No. Perché devo dormire. Cioè. Muore di sonno anche lei. E credo anche lui a questo punto. Quindi io direi. Anche lei. Lui vorrebbe uscire con Roberta. Ma niente. Li mandiamo a dormire. Lui deve. Raggiungere il livello 6 di carisma. Assicurarsi un nuovo voto. Ragazzi. E ci sta. Mentre lei. Ritorna. Ragazzi. Tra l'altro. Sta giocando qualcuno. Ritorna. Ottieni 5000 follower. Va bene. Noi siamo solo a 2445. Quindi meno meno della metà. Adorissimo. Dov'è la nostra Camille? Aira caduta a terra. Non ce la faremo mai. A fare 5000 follower. Vi ricordate per arrivare a 2000. Quanto ci abbiamo messo? Troppissimo. Però siamo al. Siamo al livello 8 della carriera social media. Quindi io dire. Scorpius Bianchi ti sa. No. Non voglio andare a casa tua. Direi che dobbiamo assolutamente farcela a completare la carriera dei social media. Almeno in questo ramo ragazzi. Perché altrimenti siamo veramente nella merdina. Dato che nello scorso episodio siamo andati molto in giro. In questo episodio sono rimasto a casa e ho fatto andare un po' avanti le carriere appunto. E' la vita dei nostri sim. Per fortuna il rendimento scolastico di Simone è migliorato. Lui sta andando a svegliare il padre come al solito. Ok. Tesoro. Nebulizza il mostro sotto il letto. Visto che ti trovi. Vanno tutti in bagno. Ora saranno super imbarazzati. Adoro. Va bene ragazzi. Allora io direi che per questo episodio lo concludiamo qui. Fatemi sapere cosa ne pensate anche di quello che vi ho proposto. Ovvero della vita di Simone, Cristina e Michel Pizzaz insieme magari in una nuova casa. Appena diventano tutti adolescenti. E spero vi sia piaciuto questo episodio. Se così è stato mettete un mi piace. Commentate con i vostri consigli. Io ora con 9.445 magari posso anche migliorare un po' la casa. Adoro finalmente. E niente. Ci vediamo al prossimo episodio ragazzi. Ciao a tutti.